Benvenuti in questa seconda parte del video sul Museo del Louvre. Nella prima ci siamo dedicati a ricostruire quello che è stata la genesi del Museo del Louvre. In questo video invece vi voglio parlare dei principali reperti che vi sono custoditi. Il patrimonio artistico del Louvre si divide per sezioni. Per quanto riguarda i reperti dell'antichità, quelli provenienti dal vicino e medio oriente, essi sono un'importante testimonianza delle civiltà che si sono susseguite in quei territori dal 10.000 a.C. fino all'avvento dell'Islam, come la cultura accadica, quella babilonese, degli Ittiti, degli Assiri e degli Ilamiti. Da non perdere sicuramente la maestosità delle sculture provenienti dal palazzo di Sargon II a Korsabad, come il monumentale toro alato con testa umana in accadico Lamassu. Con questo termine si indicava in Mesopotamia la divinità protettrice delle porte, colei che difendeva gli edifici dalle oscure forze ostili, dei custodi benevoli con corpo di toro, ali di uccello e testa umana, posti a sostenere gli archi delle porte monumentali dei palazzi delle città assire del primo millennio a.C. La loro caratteristica principale è legata al modo in cui è stata trattata la pietra dagli scultori, scolpita a tutto tondo nella parte anteriore e in alto rilievo invece lungo il corpo del muro. Una delle collezioni di reperti antiche più prestigiose dell'ouvre è quella egizia. Creata nel 1826, essa è una delle più importanti al mondo per qualità e quantità di reperti e offre un quadro pressoché completo delle civiltà che si sono susseguite sulle rive del Nilo per oltre 4.000 anni. Alla storia di questo dipartimento è legato il nome di Jean-François Champollion, il primo interprete di geroglifici nominato conservatore del dipartimento egizio nel 1827. In questa sezione troviamo tra i tanti reperti la scultura in pietra calcarea dipinta dello scriva seduto, la raffigurazione di una delle cariche più importanti insieme all'amministrazione egizia, essendo la conoscenza della scrittura non solo strumento necessario allo svolgimento delle funzioni pubbliche o economiche, ma anche fondamentalmente per tutte quelle pratiche cultuali. Il periodo antico è ben testimonianato anche dai reperti etruschi, greci e romani e sono dei dipartimenti più antichi del Louvre, costituitosi già nel 600 con le collezioni dei potenti cardinali Richelieu e Mazzarino. Punti di diamante di questa sezione sono il sarcofago degli sposi, rinvenuto nella necropoli della banditaccia di Cerveteri nel 1845 e acquistato dal Louvre nel 1861 insieme alla collezione del Marchese Campana. È il fiore all'occhiello della collezione etrusca e rappresenta una donna distesa accanto al marito su una cline, il letto dove ci si distendeva durante i banchetti, anche funebri. È un grande cinerario dove venivano poste le ceneri dopo la cremazione. Sebbene la lavorazione della terracotta ci indichi un'influenza ionica di quest'opera etrusca, attestando l'intorno al VI secolo a.C., è importante sottolineare la presenza della donna, che contrariamente al mondo greco nel quale il banchetto era riservato esclusivamente all'uomo, la cultura etrusca invece dava la donna un ruolo di pari importanza nella società. Stripitosa testimonianza della scultura greca invece è la Nike di Samotracia. Non si dice Nike, mi raccomando, Nike di Samotracia. Teniamo Bada, la moderna voglia di inglesizzare ogni parola, eh. Come dicevo, la Nike di Samotracia è proveniente dall'altare dei grandi dei nell'isoletta di Samotracia, nell'Egeo settentrionale. La Dea della Vittoria, in omaggio al trionfo dei Rodi su Antioco III di Siria, avvenuto nel 191 a.C., è coperta da un sottilissimo chitone, trasparente, virtuosamente rappresentato e aderente al corpo della divinità, come se fosse modellato dal vento stesso. Essa è immortalata nell'atto di scendere sulla prode di un'imbarcazione, e così doveva presentarsi in origine, posta sulla cima di un monumento a forma di nave. Arriviamo a introdurre quella che è una delle collezioni più importanti al mondo, ovvero l'arte italiana, la cui raccolta risale ai tempi di Francesco I, profondamente innamorato dell'arte italiana, che invitò Leonardo e altri artisti della penisola a lavorare presso la sua corte, oltre che impegnarsi ad acquistare opere di Michelangelo e Raffaello. In seguito la raccolta si è arricchia ulteriormente, tanto da conservare opere quali la Mestà di Cimabue, dipinta per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco a Pisa, e requisita dai francesi nel 1811, e mai più restituita. La battaglia di San Romano, facente parte del trittico commissionato dal fiorentino Leonardo Bartolini Salimbeni all'artista Paolo Uccello, o la Belle Giardiniere realizzata da Raffaello durante il soggiorno fiorentino del 1504, che fu acquistata proprio dal re Francesco I, il concerto campese del giovane Tiziano, opera che risente molto dell'apprendistato sotto Giorgione, o ancora gli schiavi di Michelangelo, realizzati in origine per decorare la tomba di Giulio II, e facenti parte delle collezioni del cardinale Richelieu. A Louvre vi possiamo ammirare anche Le Nozze di Cana, di Veronese, o La Stupenda e Travagliata Morte della Vergine di Caravaggio, o ancora Amore Psiche di Canova. Non parlo della Gioconda di Leonardo, poiché c'è talmente tanta folla nella sala in cui è custodita che vi farà passare la voglia di osservarla. Importante a Louvre è anche la sezione della pittura francese, come lo splendido ritratto del re Francesco Carlo VII, realizzato da Jean Fouquet intorno alla metà del Quattrocento, o la tela intitolata L'ispirazione del poeta di Incola Poussin. Celebre per l'efficace resa della luce per la maestria tecnica è invece La Maddalena Penitente di Georges de Latour. Testimone della pittura settecentesca è la grande tela di Jean-Antoine Watteau, intitolata Gilles, raffigurante alla celebre maschera della commedia teatrale Pierrot, rappresentato da un volto malinconico dall'aria pensosa, un'espressione ben lontana dal ruolo comico del personaggio interpretato. In questa sezione troviamo anche grandi capolavori dell'Ottocento francese, influenzato dalla teatrale drammaticità del giuramento dei orazzi di Jacques-Louis David, realizzato durante il soggiorno romano dell'artista. Sto parlando della zattera della medusa di Théodot Géricault e della libertà che guida il popolo di Delacroix. Il quadro di Géricault rielabora un fatto di cronaca avvenuto nel 1816, quando la fregata meduse si arenò durante un viaggio in Senega. Gli ufficiali si salvarono sulle sceluppe abbandonando marinai e passeggeri, costretti quest'ultimi a costruire una zattera per scampare la morte e successivamente salvati dall'intervento di un vascello militare. Mentre la tela di Delacroix è un omaggio all'eroismo popolare e divenne ben presso il simbolo dell'ideale repubblicano che aveva guidato l'insurrezione del luglio 1830 contro la casata dei Borbone. Troviamo ben rappresentata anche quella che è la pittura europea, comprendente opere di arte spagnola come la tela dello storpio di Giuseppe de Ribera, legata all'importanza cristiana della misericordia e della carità verso chi è povero. Opere d'arte fiammiga come la strepitosa tavola di Jean Van Eyck, conosciuta come Madonna del Cancelliere Rolaine, strepitoso esempio di devozione nordica. Opere d'arte olandesi come la Bezzabè di Rembrandt e l'astronomo di Vermeer. Tra i testimoni della pittura tedesca vi sono artisti al caldo di Kranach, Holbein e Dürer, quest'ultimo ben rappresentato nell'autoritratto con Fiore di Eringio. Chiudo infine questo video dedicando qualche momento anche all'importante collezione di arti grafiche, comprendendo i capolavori quali il ritratto di Isabella d'Este e di Leonardo, la pergamena strepitosa di Jacopo Bellini con la predica del Battista, o ancora le due figure maschile a punta d'argento su carta preparata verde attribuite alla mano di Giotto. Tutte le opere che ho cercato di mostrare in questo video sono solo una piccola parte del patrimonio culturale che potete ammirare in un museo come il Louvre, la cui visita raccomando fortemente, soprattutto se avete diversi giorni da dedicare a Parigi, permettendo quindi di frammentare un percorso in più momenti, poiché non auguro a nessuno di visitare in un unico giorno un museo del genere, ne uscireste solo pazzi.